Vorrei sapere Cerchio medianico K, dal tempo all'eterno, attraverso Marco, a cura di VB. Domanda Vorrei sapere fino a che punto sul piano fisico è bene seguire i propri sentimenti e quando invece è meglio seguire una logica, visto che i sentimenti non conoscono logica. Guida psichica Quando non c'è logica non c'è il vero sentimento perché questo, che tu chiami sentimento, è profondamente logico. L'unica cosa illogica è l'egoismo, la separatività, l'io. Queste sono le cose illogiche. Allora, quando c'è un comportamento non logico, ti rispondo Quando c'è la separatività L'unico comportamento logico è quello altruistico e non potrebbe essere diverso. Tutto ciò che nasce dal senso di separatività e dall'io è illogico pur essendo giustificabile sul piano assoluto. Perché noi abbiamo detto che tutto è giusto dal punto di vista dell'eterno presente che tutto è giusto perché l'uomo ne sia realmente convinto. Ma sul piano delle verità di passaggio quali voi ora state vivendo quando vi è ciò che nasce dal senso di separatività si è profondamente illogici perché tutto ciò che nasce dall'io è tale pur essendo l'unica via in quella situazione in quella creazione percezione. Ecco quello che deve guidarvi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.